Dopo la sconfitta maturato allo stadio Speroni di Buster Sizio, la Virtus Entella si appresta a vivere il momento più difficile della stagione e quanto si legge sul sito della Società Bianco Celeste all'indomani della partita con il Propatria, formazione che ha battuto i chiavaresi per due reti a zero grazie ai gol di Zara al sedicesimo e Le Noci su rigore al sessantacinquesimo. Il tesoretto per l'Entella è di un solo punto di vantaggio sul Piacenza, praticamente unico rivale alla promozione diretta. D'altro canto ci sono le difficoltà delle rimanenti quattro partite. A questo punto della stagione l'unica cosa che conta è guardare con determinazione al futuro più prossimo e porre come unico traguardo ciò che la squadra sta inseguendo praticamente da luglio. Lo sapevamo già e naturalmente abbiamo iniziato un po' così, balbettando e abbiamo preso il gol su un piazzato, quindi si è messa subito difficile. La squadra però ha iniziato a giocare, a giocare anche bene. Il problema è che ci siamo anche fatti infilare più volte con passaggi sbagliati, con situazioni un po' così al limite del sostenibile per quanto riguarda la qualità dei passaggi. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto qualche cambio e la squadra ha reagito benissimo, nel senso che comunque sono stati 20-25 minuti dove l'abbiamo messi lì dietro. Loro ci ripartivano, quindi ci creavano qualche problema, hanno giocato molto su palla lunga, rinviando tanti palloni e noi soprattutto inizialmente non abbiamo avuto le misure giuste, soprattutto contro i loro tre difensori e il play. Poi, ripeto, in quei 25 minuti che dicevo abbiamo sferato due volte il gol del pareggio e purtroppo abbiamo preso su un calcio d'angolo nostro una ripartenza che ci ha fatto molto male. Però dobbiamo guardare avanti, non ci dobbiamo soffermare su questa, questa ci deve servire da lezione e dobbiamo pensare subito ad Arezzo, che è la partita più importante del nostro campionato. Grazie.